Never Alone è un titolo di cui ho sentito molto molto parlare e sono estremamente curioso di scoprirlo. So che è ambientato all'interno delle leggende di Yunupiak, una popolazione inuit nativa dell'Alaska, ed essendo io un grande appassionato di tutto ciò che è leggende dei popoli nativi, americani, appunto inuit, ma anche maori, aborigini, eccetera, ho veramente molte molte aspettative. Vediamo insieme se vale la pena comprarla. Grazie a tutti. La leggenda narra di una terribile tempesta abbattutasi per giorni e giorni sul villaggio degli Yunupiak, e di come la leggendaria guerriera Konuxa Yuka abbia da sola affrontato la magia dietro le terribili tempeste per salvare il proprio villaggio. Ecco, da qui parte anche la protagonista del nostro gioco, che nello stesso modo si trova ad affrontare da sola gli incantesimi di un uomo malvagio per salvare le persone che ama. In Nevrelon abbiamo non uno ma due protagonisti, una bambina ed una volpe artica. Una creatura che scopriremo presto avere poteri magici di evocare e controllare gli spiriti della natura. E con il suo aiuto porteremo la bambina a risolvere una serie di classici enigmi ambientali. Nevrelon è un puzzle game della difficoltà assolutamente ridotta, molto bassa, e che però rende ancora più interessante giocare a questo titolo perché ci dà la possibilità di goderci il panorama in maniera quasi rilassata. Devo dire che le mie aspettative sono state ampiamente ripagate da Nevrelon. Nevrelon è un titolo romantico, delicato, con una grafica a pastello in questa immensa distesa di ghiaccio, neve, bufera, dove personaggi mitologici come i piccoli uomini, l'uomo gufo e tanti altri elementi del folklore locale che fanno capolino per aiutare o per mettere in difficoltà la giovane protagonista di questa avventura. È un gioco breve, si completa in meno di tre ore, tuttavia è arricchito e secondo me assolutamente impreziosito dalla scelta di inserire e di associare ai collezionabili del gioco dei piccoli frammenti di documentari, ovvero i film, con esperti e abitanti nativi dell'Alaska che raccontano quella che è la loro tradizione, raccontano le loro leggende e spiegano perché sono quello che sono effettivamente e perché amano preservare le loro tradizioni. Nevrelon è un ringraziamento alla cultura locale, è una piccola perla che merita di essere giocata e che merita di essere conosciuta per quanto non offra grandi livelli di sfide, per quanto appunto, come dicevo, possa essere completata in breve tempo. che si mostrano come un uomo per mostrare il passaggio a casa, o magari un aiutato spirito che decide di mostrare il rischio con il viso e il corpo di un uomo invece di una forma di animale, e quindi penso che una delle cose che è difficoltà di capire è che non è una forma di vedere. NARA LA LEGGENDA DI UNA TERRIBILE TEMPESTA BATTUTASI SUL VILLAGIO DEGGLI INU... DEGLI INUG... IUNI... IUNI... IUNI SONO INUIT, CHIAMIAMOLI INUIT, PER DIO! E DI COME UNA SOLA FRA TUTTE LA LEGGENDARIA KUNUXI... KUNU... 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 KSAI... KUN... KUR... KU... KU... KUR...